ciao 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 benvenuti a tutti benvenuti e ben ritrovati allora come vedete sto indossando una nuova creaturina ok fa parte della linea sereno zig zag ed è una maglia top down questa è ancora in lavorazione quindi mi manca ancora un pochino di lunghezza di fatti vedete che ho qui nella tasca il gomitolo e ci sono dei figli appesi ma lei è già finita allora andremo a vedere due tipi di realizzazione la prima con questa manica semplice e che va a stringersi comunque sia una manica più stretta con lo scollo fatto in questo modo quindi in modo semplice e con la parte sotto anche molto semplice vi mostrerò come fare questo tipo di manica ovviamente come partire in top down quindi partiremo dal collo per andare a scendere come poterlo svasare quindi allargarlo anche sui fianchi e come poter fare questa manica che adesso andremo a a vedere più nel dettaglio e anche quel tipo di bordino quindi mi spoglio perché ripeto non è non è ancora finita e inquadriamo solo lei che è meglio lei che è meglio andiamo a vederli insieme nel dettaglio ok devo farvela vedere indossata devo farvela vedere indossata anche questa questa variante con la manica che quasi a palloncino con questa decorazione sulla manica la scolatura un pochino più ampia dopo vi faccio vedere questo bordino che ho fatto anche sotto lavata e lavata quindi il filato è meraviglioso poi usate quello che volete ma questo è veramente meraviglioso sia questo che quello che avevo io prima indosso che quello devo ancora lavarlo invece questo è già lavato quindi ho deciso poi nella scolatura semplice ma poi ognuno lo può fare come vuole ripeto è adattabile a qualsiasi misura io vi spiego tutto sono qui mi spiego tutto vi spiego come farlo spero che vi piaccia quanto piace a me lo spero fatemelo sapere vi prego fatemelo sapere un bacione anzi che bacione sì vi bacio lo stesso e andiamo a vederlo sul manichino ovviamente io mi dimentico sempre di dirvelo però l'avete vista indossata e sempre di dirvelo ma ovvio che vi seguo passo passo dettagliatamente in tutto ok quindi il polsino la manica questa qui è un po' più a palloncino decisamente più a palloncino l'avete vista su di me e quello che non sono riuscita a farvi vedere è il bordo finale anche questo faremo insieme vi spiego tutto 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 quindi seguitemi mi raccomando cosa non vi ho fatto vedere la scolatura dietro qui sembra molto ampio perché scende ecco adesso questa è la scolatura dietro precisa e che ne dite se prendete il filato che avete e iniziate con me questi sono due filati stupendi ve li ho già consigliati nella recensione di poco fa ma scegliete quello che vi piace di più a me interessa solo che voi seguite me nelle creature e questa io la trovo meravigliosa poi questo è un mio parere fatemi sapere il vostro mi raccomando ora la vedete ancora da terminare come vedete ci sono ancora dei marca punto ma alla fine del tutorial la vedrete già lavata e sistemata con i fili completamente a posto dunque questa è la maglia serena zig zag color perla per questa maglia dopo vi do tutti i dettagli però intanto vi dico per questa maglia taglia 44 ho usato il bambù e cotone della temu allora di bambù c'è il 70 per cento il cotone è il 30 per cento ho usato 250 grammi e in un lotto ci sono 250 ci sono 300 grammi quindi mi è avanzato questo gomitolo e questo taglia 44 adesso vi do anche le misure se avete una taglia superiore ovviamente prendete due lotti o tre lotti se è una taglia molto morbida e quindi uncinetto due e mezzo evito qualche misura che forse vi può interessare allora la scolatura dopo andiamo proprio a fare la teoria allora la scolatura e di un'ampiezza di 19 centimetri finita ok io ho fatto solo un bordino di maglie basse quindi 19 centimetri per tutte le parti le quattro parti perché è un quadrato e poi cos'altro dirvi ecco come corpo o 40 centimetri quindi da qui a qui 40 centimetri metà corpo ovviamente la lunghezza o una lunghezza totale quindi da giù dal fondo fino alla spalla tenendo la morbida di 50 centimetri ok come lunghezza totale la manica parte con 21 centimetri circa tenete conto che è morbida ha una lunghezza da sotto l'ascella al polsino facciamolo al contrario di 17 e finisce con il bordino da 12 ok e questa è una delle due la seconda quella in rosa ho utilizzato due di questi gomitoloni che purtroppo non riesco davvero a definire la quantità io penso ci siano dai 300 ai 350 metri di filato per forza pensavo fossero 250 ma sicuramente andiamo dai 300 ai 350 metri perché vi dico questo perché io ne ho utilizzati nella maglia precedente circa mille metri perché anche lì non è da definirsi bene la quantità in metri mentre per questa io l'ho finita è vero che la manica è molto più stretta è questa qui alla manica stretta che poi durante il tutorial vi spiegherò però qui mi sono andati solo 200 grammi secondo me da come io l'ho finita che tra l'altro ho ancora questo del secondo da come l'ho finita quindi io con un lotto ne faccio due per farvi capire meglio e non con la manica ampia e con questo tipo di manica io penso di aver usato un totale di non so 700 metri dai 600 ai 700 metri di filato perché l'altra ho usato mille metri io penso che qui siamo intorno 600 650 dai 600 ai 700 e lo so non posso essere purtroppo non posso darvi nessuna certezza in questo l'uncinetto sempre il 2 mezzo qui stiamo parlando di 80 cotone 27 l'ho preso sempre su tema parliamo di misure ora che questo questa oa una scollatura più stretta quindi più accollata io ho una scollatura diciamo finita quindi parto proprio da qui a qui di 14 quindi 14 14 14 e 14 quindi è più accollata ok l'ho quasi resa rotonda ma tanto vedete tutto nel tutorial adesso tra l'altro la vedete anche questa da affrancare devo affrancare tutti i fili devo lavarla quindi la vedrete poi a fine tutorial o inizio tutorial lavata con tutti i fili messi a posto quindi vi ho detto la misura della scollatura la manica è lunga da sotto l'ascella 12 centimetri in totale dalla spalla alla lunghezza e 27 centimetri parte con 17 centimetri e finisce con 15 centimetri circa ok e questo è quanto per quanto riguarda la lunghezza ho fatto una maglia lunga adesso ve lo dico bene cerchiamo di mettere meglio la maglia allora partendo da qui scendendo giù circa 51 centimetri ok ed è larga circa 39 ok quindi anche per tale motivo oltre la manica è più stretta è un pochino più aderente questa piuttosto che l'altra ok adesso anche questa vedete l'ho rifinita e sto finendo la parte sotto solo con maglie basse quindi qui rimarrà molto molto semplice tranne il bordino della manica che ho voluto differenziare un pochino con questi punti allungati quindi andiamo alla teoria la teoria la teoria allora lo so la teoria è noiosa e non piace a nessuno ma senza questa non possiamo partire quindi vi consiglierei di prendere il filato che voi desiderate e anche un uncinetto adatto al filato che desiderate usare e di seguirmi in questo senso allora noi partiremo con degli ovalini gli ovalini per intenderci sono questi questi partiremo con gli ovalini allora io ti consiglierei di fare una cosa se a te disturba il fatto di fare un multiplo perché magari non ti va di fare gli ovalini che ho fatto io quindi per esempio in questo caso in questo caso che è quella in bambù quella chiara quella con diciamo il collo più ampio ho fatto 76 ovalini ok mentre l'altra che quella arancione non questa quella arancione quella rosa 64 ovalini allora parliamo di una scollatura quadrata dove ogni lato è uguale e in ogni lato avremo 18 ovalini quindi parlando della scollatura più ampia 18 18 18 18 più 4 per gli angoli ok 1 2 3 e 4 quindi 18 per ogni lato più 4 angoli più 4 ovalini per gli angoli per quanto riguarda invece quella rosa io ho fatto 15 15 15 15 15 e 15 più 4 ovalini ok quindi sono 15 15 15 15 sono 60 più 4 64 se avete difficoltà a fare a farvi il multiplo seguite me se io vi ho dato la misura della scollatura se avete un filato come il mio o comunque un filato da uncinetto 2 e mezzo e come ampiezza della scollatura vi va bene quella che io vi ho dato prima allora semplicemente segui me se hai un filato diverso più spesso o più sottile devi modificarlo ok quindi tu magari segui me con questa con questo dettaglio che io ti ho dato con questa quantità di ovalini e se per caso sono troppi tu sappi che devi togliere tre ovalini per ogni lato ok quindi con un multiplo di tre quindi anziché 18 togliendone ne devi togliere tre quindi diventa 15 15 15 15 15 ecco che arrivi a quella rosa quindi se hai il filato più spesso ti occorrono meno ovalini e ne farai 64 ok devi togliere se invece ti sembra stretta perché hai un filato più sottile del mio allora devi aggiungere tre ovalini quindi più tre tre ne aggiungi tre 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 e tre quindi ovviamente diventerà 21 21 21 e 21 più i quattro i quattro i quattro ovalini li devi sempre lasciare mi raccomando perché sono quelli degli angoli quindi sono fondamentali va bene se per caso a te la scolatura quadrata non piace allora potrai utilizzare questo schema per fare la scolatura rettangolare quindi qui sarà la spalla qui sarà la parte frontale e questa la schiena ok ovviamente cosa ho fatto qui semplicemente ho tolto tre o tre ovalini quindi dietro e avanti saranno 18 le due spalle ne avranno 15 ma lascio sempre i quattro ovalini dei miei angoli è importantissimo questo ok i quattro devono esserci sempre quindi ricorda il multiplo e di tre ovalini che adesso facciamo insieme più quattro e poi giostrati se vuoi un consiglio parti con me poi puoi sempre aggiustare durante la lavorazione degli ovalini in bar chiudendo a cerchio tu guardi quelli che ho fatto io tu guardi e provi a vedere se a te vanno bene oppure no ok armati anche armati tra virgolette anche di quattro segnapunto parto sempre con il filato in bambù quello giallo allora dobbiamo partire con il primo angolo ma è uguale a tutto il resto l'unica cosa che metteremo il segnapunto quindi prendi il filo ruotalo su se stesso e fai la prima catenella tienila ferma e ne fai altre due totale sono tre catenelle filo sull'uncinetto vai sulla prima prendi il filo e chiudilo chiudi con una maglia alta ok questo è l'ovalino di cui ti ho parlato quindi prendi il segnapunto e bloccalo in questo modo questo è il nostro primo angolo ora dobbiamo fare vedi abbiamo fatto il primo angolo ora dobbiamo fare 18 ovalini e poi il diciannovesimo sarà il nostro secondo angolo quindi riparti con 3 catenelle filo sull'uncinetto entra ora vedi qui e la chiusura della maglia alta entra in questo modo quindi prendi tutte e due le maglie questa delle catenelle e questa della maglia alta prendi il filo lo fai passare all'interno e poi chiudi la maglia alta il primo ovalino facciamo il primo ovalino della nostra scollatura questo è l'angolo ora facciamo il secondo 1 2 e 3 3 catenelle fai la stessa cosa entra proprio dove si uniscono le due maglie quindi qui e qui prendi il filo e vai a fare la maglia alta torna a fare 3 catenelle inserisci di nuovo dove si uniscono le maglie prendi il filo maglia alta lo facciamo ancora una volta 3 catenelle filo sull'uncinetto entra dove si uniscono le maglie prendi il filo maglia alta ok 123 filo sull'uncinetto dove si uniscono le maglie entri e fai la maglia alta ok continua a fare questi ovalini 18 volte quindi qui ne abbiamo fatti non contare l'angolo 12345 vai avanti fino a 18 quindi io ne ho fatti 18 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nella diciannovesima che sempre un ovalino uguale metto un segnapunto quindi 18 liberi e la diciannovesima metto il mio segnapunto ok adesso vado avanti per fare gli altri quattro lati quindi qui sono 18 ho già due angoli devo fare altri 1 2 e 3 lati un lato ce l'abbiamo dobbiamo fare altri tre lati identici se state seguendo questo diagramma ok questo se lo state facendo rettangolare semplicemente adesso avete fatto i primi 18 oppure avete fatto i primi 15 a seconda di dove siete partiti io direi primi 18 abbiamo fatto l'angolo che questo questo ora fanne 15 poi ne fai il sedicesimo diventa il tuo angolo poi ne fai 18 il diciassettesimo diventa il tuo angolo e poi ne fai di nuovo 15 ti vai ad unire noi invece abbiamo fatto 18 e siamo al secondo angolo il primo e il secondo la diciannovesima l'abbiamo segnata con il marca punto e adesso io sto continuando per formarne altre 18 altri 18 valini e la diciannovesima la fermerò la segnerò con il mio marca punto faccio tutti e quattro i lati e uniamo insieme ho fatto i miei quattro lati siamo partiti con il primo angolo poi ne abbiamo fatte 18 abbiamo fatto 18 ovalini il 19 18 valini il diciannovesimo e il nostro secondo angolo 18 ovalini contatevi è che siano giusti il diciannovesimo e il terzo angolo 18 ovalini il diciannovesimo il terzo angolo 123 il quarto angolo e 18 ovalini ok quindi abbiamo in totale 18 un angolo 18 un angolo 18 un angolo 18 e l'ultimo angolo in totale sono quattro angoli ok e qui di ovalini ne abbiamo 18 18 18 18 18 ok adesso dobbiamo unire i nostri ovalini in che modo uncinetto prendiamo l'ultimo valino che abbiamo fatto qui dobbiamo fare molta attenzione l'ultimo valino che abbiamo lavorato inseriscilo nell'uncinetto e da qui parti tenendo la parte lineare dell'ovalino verso l'alto e la parte bombata verso la tua mano e continui così per raddrizzare la nostra bordura ok fai scorrere piano piano tu hai già contato e sai che sono giusti e arrivi al primo angolo da dove siamo noi partiti allora abbiamo il nostro uncinetto già inserito inserisciti direttamente dentro l'ovalino prendi il filo vedi non ho caricato il filo direttamente nell'ovalino prendi il filo e lo porti all'interno con una maglia bassissima ora segui le catenelle che hai qua sopra vedi qui dobbiamo lavorare sulla parte più bombata quindi segui questa catenella e fai una maglia bassissima per raggiungere la parte centrale quindi questa l'ho già lavorata io vado ancora qui perché mi sembra più centrato ok perfetto questa è la nostra codina simpatica questo lo posso già togliere perché era il segno del mio primo angolo e dopo vedrete dove lo dovremo mettere ok siamo nel centro del nostro angolo il primo ovalino tiriamo su 3 catenelle e accanto ne andiamo a fare una maglia alta ora riprendi di nuovo il tuo segnapunto 1 2 nella terza catenella d'inizio inserisci il segnapunto se vuoi e io non lo metto più però se ti fa comodo sapere dov'è la terza catenella per poi unire il giro mettilo quindi nella terza catenella d'inizio allora abbiamo fatto le due maglie alte diciamo quindi la prima con 3 catenelle l'altra a fianco e ora facciamo 2 catenelle entra nell'ovalino ma nella parte bombata quindi dove ci sono le catenelle lavorerai sempre dove ci sono le catenelle ok nella parte più bombata e fai due maglie alte nell'ovalino successivo di nuovo due maglie alte in quello successivo di nuovo due maglie alte quindi abbiamo 246 maglie alte in totale due per ogni ovalino quando arrivi a 6 distanzia con 2 catenelle non saltare nessun ovalino continua a lavorare sempre nella parte bombata nello stesso modo quindi facendo due maglie alte nello stesso ovalino poi vai nell'ovalino a fianco 2 maglie alte in quello a fianco 2 maglie alte e ora ne hai di nuovo in totale 6 vedi queste sono le due catenelle nei di nuovo 6 distanzia con 2 catenelle e riparti facendo altre 23 coppie da 2 maglie alte 2 in ogni ovalino e questa è la terza coppia distanzia con 2 catenelle e riparti di nuovo fai di nuovo tre coppie da 2 maglie alte 2 in ogni ovalino distanzia con 2 catenelle e rifà arriva fino al segna punto allora abbiamo fatto tutto il lato e in questo caso io 1 2 3 4 5 6 moduli ok divisi da 2 maglie alte adesso dividiamo sono arrivata proprio dove c'è il segna punto dividiamo anche questi sei moduli vedi con 2 catenelle entriamo nel segna punto sempre nella parte bombata proprio dove c'è il segna punto quindi nel ovalino dove c'è il segna punto e facciamo il nostro angolo completo lavorando lavorando 2 maglie alte 2 catenelle rientrando nello stesso punto e lavorando altre 2 maglie alte e abbiamo fatto il nostro angolo completo adesso lavoriamo l'altro lato nello stesso modo quindi partiamo con le 2 catenelle senza saltare nessun ovalino entra nel primo ricorda nella parte bombata ho finito il mio secondo lato quindi ho di nuovo 1 2 3 4 5 6 moduli di coppie da 6 maglie alte divise da 2 catenelle entro dove c'è il nuovo segna punto prima però devo fare 2 catenelle entro dove c'è il mio segna punto sempre nella parte bombata e faccio il mio angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte ho fatto il mio secondo angolo completo divido con 2 catenelle e riparto di nuovo come prima ok quindi esattamente come vi ho mostrato vi lascio andare da sole perché oramai questo questo passaggio è chiaro ok quando arrivate ad aver ad aver finito anche il vostro terzo lato semplicemente completato quando arrivate proprio da questa parte farete queste saranno le ultime tre coppie di da 6 maglie alte farete le 2 catenelle e qui farete un nuovo angolo ci vediamo alla fine del quarto lato quando dobbiamo unire abbiamo realizzato i quattro lati ma dobbiamo chiudere quindi siamo a questo punto dove abbiamo le ultime tre coppie da 2 maglie alte facciamo come al solito le 2 catenelle come al solito per questo giro le ultime 2 catenelle e da dove vedete che abbiamo segnato la terza catenella del giro rientriamo proprio in quell'ovalino da dove partono le 3 catenelle prendiamo quindi abbiamo il filo sull'uncinetto entriamo nell'ovalino dobbiamo completare l'angolo quindi andiamo a fare la prima maglia alta e la seconda maglia alta ok adesso abbiamo le 4 maglie alte dell'angolo ma manca l'unione quindi filo sull'uncinetto entra proprio dove c'è il segnapunto che indica la terza catenella di inizio giro entra proprio dentro prendi il filo il filo e chiudi tutte e tre le asoline insieme puoi togliere il tuo marca punto e così hai completato il primo giro ora ti mostro meglio ok qui abbiamo un lato il secondo lato il terzo lato e il quarto lato ecco questa questa partenza io ho voluto farla non in campioncino ma proprio reale e adesso invece andremo avanti con il campioncino perché perché allora è importante misurarlo in questo momento non tanto quando abbiamo fatto gli ovalini purtroppo ma in questo momento è fondamentale perché abbiamo già costruito il tutto bisogna che tu lo fai passare dalla testa e vedere se questa scollatura ti va bene o se devi ingrandirla o diminuirla ok in base al filato che hai ovviamente quindi che cosa dovrai fare potevi farlo già con gli ovalini ci mancherebbe altro questa però è la misura reale tieni conto che dovrai poi fare se vuoi se non si può lasciare anche così perché bellissimo anche in questo modo la rifinitura un bordino minimo lo devi fare quindi calcola anche questo se troppo ampia è meglio perché se ampia con il bordino tu la tieni più stretta se invece ti sembra troppo stretta già così sono due le cose o mi disfi il primo giro che hai fatto e aumenti gli ovalini ok ne metterai tre in più per ogni lato ok quindi non più 18 ma saranno 21 21 21 21 21 e 21 gli angoli vanno bene dove sono però 4 no che sono 4 non vanno bene dove sono perché devi spostare tutto devi spostare poi ovviamente no perché anziché 18 ne avrai 21 e di conseguenza hai una serie di coppie da 6 in più che me ok quindi io ti consiglierei a questo punto di provarla poi a disfare c'è sempre tempo per carità però se lo fai adesso è un attimo se lo fai dopo diventa un pochino più pesante quindi provala e guarda se questa misura per te va bene se va bene continua con me altrimenti rifai il numero degli ovalini giusto per la tua misura e continua da questo punto con me bene come detto abbiamo finito il nostro primo giro adesso io vi seguirò con un campioncino ma è la stessa cosa non vi preoccupate adesso vedrete e lo faremo insieme ok è solo un modo per me per poter poter andare un pochino avanti un pochino più velocemente così almeno poi mi soffermerò soprattutto in nei dettagli delle maniche e quant'altro nel ovviamente nel progetto grande quindi non più nel campioncino allora partiamo con il secondo giro quindi sempre con tre maglie come al solito avevo sbagliato l'uncinetto e non sono tre maglie ma sono tre catenelle quindi 1 2 e 3 rientriamo nello stesso punto quindi proprio nel centro del nostro angolo e andiamo a fare una maglia alta benissimo allora adesso andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta che troviamo quindi sono due molto meglio però è quindi 1 rientra nella seconda maglia alta e sono due adesso vai nello spazio e fai altre due maglie alte sempre nello spazio tutte e due nello stesso spazio come vedi in totale ne avrai sei compreso le prime due che sono la metà del nostro angolo quindi sono sei a proposito del nostro metà angolo dove da dove siamo partiti con le 3 catenelle 1 2 e 3 se ti fa comodo nella terza catenella ricorda di mettere il segnapunto non fare come me che io non lo uso quindi ogni tanto mi dimentico di ricordarvelo quindi nella terza metti il segnapunto quindi in totale contando la metà del nostro angolo quindi le due di partenza sono sei ora mi fai due catenelle salti due maglie di base e andiamo a fare sei maglie alte una su ogni maglia alta di base più come vedi qui sono quattro più andiamo a farne due nello spazio ora 2 catenelle salta 2 maglie di base e fai la stessa cosa quindi andrei a fare saltane due e vai a fare una maglia alta su ogni maglia alta che troverai quindi ne avrai quattro e due le farai nello spazio ora continua così come ti ho mostrato quindi due catenelle e continua a fare 6 maglie alte quindi 4 maglie alte una su ogni maglia alta di base e due le farai nello spazio poi mi fai due catenelle salti le due di base e fai di nuovo le 6 maglie alte 4 rispettivamente sopra le maglie alte del giro sottostante e 2 nello spazio quando arrivi all'angolo e quindi prosegue così quando arrivi all'angolo mi farai due catenelle salti le ultime due maglie alte salti le ultime due maglie alte perché poi c'è l'angolino vedi questo è l'angolo salti le ultime maglie alte ok e così abbiamo finito il primo lato ovviamente tu avrai più sequenze ok ne avrai di più in questo modo finirai il primo lato per ricominciare ricomincia di nuovo da come siamo partiti quindi entrerai nelle prime due maglie alte che troverai e farai due maglie alte nello spazio mi fai due maglie alte e ti fermi perché se tu conti come vedi questo è l'angolo calcolando anche le due dell'angolo ne hai già sei fai due catenelle separi quindi salta due di base nella terza continua come detto quindi farai 6 maglie alte in totale 4 saranno fatte sulle maglie alte del giro sottostante e 2 invece me le farai nello spazio di 2 catenelle continua così ovviamente formando tutte queste sezioni da 6 più 2 di separazione tra un gruppo da 6 e l'altro gruppo da 6 e quando arrivi all'angolo mi farai 2 catenelle entra nello spazio salterai le due di base entra nello spazio del tuo angolo e procedi facendo 2 maglie alte 2 catenelle e sempre nello stesso 2 maglie alte e abbiamo fatto il secondo lato ricordo ancora una volta il mio è solo un campione quindi voi avete capito come dovete andare avanti per il lato e andrete avanti così per tutti gli altri lati ricominciando sempre nello stesso modo quindi nelle due maglie alte in questo giro è sempre nello stesso modo in questo giro nelle due ma sopra le due maglie alte 2 maglie alte e nello spazio farai altre due maglie alte in totale calcolando dal metà angolo ne hai 6 2 catenelle salti 2 ok il resto lo conosci già quando arrivi a finire il lato avrai da fare le due catenelle salti due di base e mi fai l'angolo che questo 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte ci troviamo alla chiusura del secondo giro arrivati alla fine del giro facciamo come sempre abbiamo fatto in questo giro 2 catenelle e completiamo questo angolo entrando nello stesso da dove siamo partiti e facciamo una maglia alta e 2 maglie alte ok dopo aver fatto le due maglie alte filo sull'uncinetto andiamo nella terza catenella d'inizio che noi abbiamo segnato con il segnapunto entriamo prendiamo il filo e chiudiamo tutti e tre le asoline insieme abbiamo così finito il nostro secondo giro il terzo giro facciamo le nostre solite 3 catenelle entriamo di nuovo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa certo una maglia alta poi prendiamo il nostro segnapunto contiamo le nostre catenelle 1 2 e 3 e così segneremo la nostra terza catenella d'inizio in totale così abbiamo già due maglie alte ora per il terzo giro partiamo con due catenelle mi salti la prima e la seconda e vai nella terza maglia alta e fai di nuovo gruppi da 6 quindi 1 su ogni maglia alta e ne abbiamo di nuovo 4 e poi andiamo nello spazio e ne facciamo altre due in totale ne abbiamo 6 siamo partiti quindi con due maglie alte la prima ovviamente essa è stata sostituita dalle catenelle 2 catenelle subito dopo e 6 maglie alte e adesso ripartiamo con 2 catenelle nei salti due e mi fai di nuovo 6 maglie alte quindi una su ogni maglia alta che trovi e ne trovi sempre 4 e 2 nello spazio 2 catenelle salta 2 maglie vai in quella successiva e fai la stessa cosa sono tutti gruppetti da 6 ok 2 catenelle e prosegui nello stesso identico modo quando arrivi all'angolo fai le 2 catenelle salta le due di base entra nell'angolo e mi fai l'angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle rientra di nuovo 2 maglie alte immbrogliato lì impicciato detto impicciato il filo molto italianesco allora 2 catenelle di separazione saltami 2 maglie vai nella terza e riprendi a fare quello che abbiamo fatto all'inizio giro quindi di nuovo 6 maglie alte 4 2 nelle farai nello spazio sono 5 e una 6 2 catenelle di separazione saltano i 2 e andiamo a fare un altro gruppo da 6 3 4 5 e 6 2 catenelle di separazione nei salti 2 e di nuovo 1 2 3 4 e 2 mi vanno nello spazio e diventano 6 2 catenelle e prosegui in questo modo finché non arrivi all'angolo salta quelle le due dell'angolo mi vai all'interno dello stesso e mi fai 2 maglie alte 2 catenelle rientra 2 maglie alte 2 catenelle di separazione nei salti due vai nella terza inizia a fare la prima delle 6 maglie alte 2 catenelle 6 maglie alte e continua così fino ad arrivare alla fine del terzo giro arrivati alla fine del terzo giro terzo 33 il terzo giro e abbiamo le 6 maglie alte 2 catenelle di separazione andiamo nell'angolo questo non cambia e la chiusura dell'angolo o gli angoli sono sempre fatti nello stesso modo abbiamo fatto le due maglie alte entriamo dove c'è il nostro segna punto prendi il filo e chiudi tutte e tre insieme puoi togliere il tuo segna punto ho preso anche il mio filo ecco noi abbiamo rimesso a posto e abbiamo così finito il nostro terzo giro andiamo avanti col nostro quarto giro come vedi partiamo nello stesso modo volendo puoi metterlo già subito è alla terza catenella metti già il il tuo segna punto quindi abbiamo fatto 3 catenelle e poi a fianco farai una maglia alta se non ti dà fastidio puoi metterlo anche subito se no lo metti dopo come abbiamo fatto sempre allora il 123 il quarto giro lo parti riempiendo già dal principio quindi praticamente come il secondo ok quindi entri subito nelle prime maglie alte e fai una maglia alta su ogni maglia alta poi vai nello spazio e fai 1 e 2 maglie alte fermati un attimo guarda che ne hai 1 2 3 4 5 6 quindi dividi con 2 catenelle nei salti due di base vai nella terza e procedi come sempre hai fatto in questi tre giri questo è il quarto quindi una maglia alta su ogni maglia alta più 2 nello spazio 2 catenelle salti 2 e riprendi a fare le 6 maglie alte 4 e 2 vanno nello spazio va bene non importa 2 nello spazio poi 2 catenelle saltiamo nei 2 andiamo nella terza di nuovo 6 maglie alte qui siamo alla terza alla quarta alla quinta e alla sesta nello spazio 2 catenelle e prosegue così come abbiamo fatto saltando 2 maglie e rifacendo di nuovo gruppi da 6 quando arrivi all'angolo salti le due dell'angolo vai nell'angolino e fai il tuo angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte per ripartire riparti come siamo partite da questa parte quindi entri subito nelle prime maglie alte queste luna che abbaia come al solito la dovete sentir sempre in ogni video ok in totale sono 62 catenelle di separazione saltano i due e procedi così allora procederanno così in questo modo facendo le 6 maglie alte una in ogni maglia alta procedi così come abbiamo fatto nel primo lato procedi così nel secondo nel terzo nel quarto ci troviamo poi alla fine del quarto ricordati di finire in questo modo quindi arrivi alla fine riempi anche questo quadratino vuoto fai le due catenelle poi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e riparti in questo modo o che nel quarto giro 1 2 3 4 nel quarto giro e pieno non ci sono catenelle iniziali quindi procedi così fino alla fine del giro se ti sei dimenticata come si riparte puoi guardare questo pezzo o questo pezzo qua ok quando arriviamo alla fine del quarto giro facciamo le due catenelle entriamo come sempre nell'angolo per completarlo e facciamo 2 maglie alte poi entriamo nella terza catenella d'inizio o dove avete messo appunto il segna punto per segnarvi la terza catenella e chiudiamo il nostro giro e così abbiamo completato il nostro quarto giro dobbiamo andare a fare il nostro quinto giro 5 prima di ripartire con il quinto giro vi devo spiegare che dobbiamo cambiare qualcosa allora innanzitutto prendi un segna punto mettilo vicino alla ripartenza in modo tale da ricordarti che questo è il quarto giro perché dico che è importante perché fino adesso se tu noti a stiamo andando verso sinistra invece adesso cambiamo la direzione e andiamo verso destra per quattro giri quindi come dobbiamo ripartire nello stesso identico modo ma dobbiamo fare un altro tipo di calcolo il buchino non va più sulle ultime o sulle prime due di questo gruppo da 6 ma lo precede quindi va in queste ultime 6 di questo giro vedi in queste due andrà il buchino quindi ciò vuol dire che io partirò in questo modo come al solito tiro sulle 3 catenelle e faccio la mia maglia alta nello stesso punto di partenza se vuoi metti il segna punto sulla terza catenella poi andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante quindi 1 2 3 e 4 e se tu ovviamente contando ne avremo sempre 6 2 4 6 ma il lo spazio lo faremo qui quindi 2 catenelle salto le ultime due entro nello spazio e faccio le mie due maglie alte più altre 4 quindi 1 2 3 e 4 così facendo ora te lo faccio notare meglio così facendo vedi questi buchini andavano verso sinistra adesso però ci stiamo girando verso destra quindi abbiamo già fatto 6 maglie alte fai 2 spa 2 catenelle salta 2 maglie alte vai nello spazio e fai in tutti in totale 6 maglie alte quindi 2 3 4 5 e 6 2 catenelle di separazione saltane 2 vai nello spazio e ricomincia da capo 2 2 3 4 5 e 6 mi fai 2 catenelle saltane 2 vai nello spazio 1 2 prendi le due dell'angolo 3 ovviamente tu qui sarei andata avanti per tutta la lunghezza del tuo lato ok quando arrivi alla fine che ti trovi con l'angolo mi lavorerai così quindi 2 maglie alte nello spazio poi 2 maglie alte sulle maglie alte dell'angolino e 2 maglie alte all'interno dello spazio del tuo angolino e così ne hai di nuovo 6 2 4 6 in questo modo dividi con due catenelle rientra nello stesso spazio dell'angolo quindi qui e fai 2 maglie alte per completare l'angolo ok poi riparti come siamo ripartite qui all'inizio solo che qui avevamo diciamo metà angolo no qui invece lo abbiamo tutto quindi tu vai avanti a fare 6 maglie alte in totale comprese le due dell'angolo 2 4 e 6 questo è l'angolo 2 catenelle di separazione nei salti due e ricominci vai avanti così per tutto il lato e ti seguo ancora una volta per questo angolo ok sono alla fine del lato è salto 2 vado nello spazio e 12 vado sull'angolo 3 4 vado nell'angolo 5 e 6 2 catenelle di separazione per il nostro angolo e completiamolo però facendo nello stesso spazio 2 maglie alte che vengono già conteggiate per il lato successivo ok quindi in ogni maglia alta mi farai una maglia alta fino ad averne 6 quindi ne farai altre 4 2 catenelle salta le due di base qui riparti con 2 4 6 maglie alte 2 catenelle salti due di base e via dicendo per tutti i tuoi quattro lati l'angolo l'abbiamo visto insieme abbiamo visto due volte insieme e se per caso non ti ricordi torna indietro ci vediamo alla chiusura del giro sono alla fine del nostro quinto giro 1 2 3 4 e 5 ho già fatto le due catenelle nel nel mio spazio adesso ne faccio ho detto catenelle 2 maglie alte nello spazio di 2 catenelle ora faccio le altre due maglie alte sulle due maglie alte entro nel mio metà angolo per completarlo e faccio le due maglie alte entro nella terza catenella d'inizio prendo il filo e chiudo il mio giro abbiamo chiuso il nostro quinto giro ok la cosa importante aver messo questo segnapunto dopo lo vedrete quanto ci servirà perché se non mettete questo segnapunto vi dimenticate quanti punti avete fatto dove oppure dovete ricontare dall'inizio e finché siamo all'inizio va bene ma quando bisognerà proseguire per un bel po' sarà noioso contarlo quindi ogni volta sposterete questo segnapunto ma lo guardiamo dopo quindi abbiamo fatto i nostri quattro giri che vanno verso sinistra e al primo giro che mi va verso destra allora quando i buchini o i fori vanno verso destra l'inizio è sempre uguale di fatti ora vi mostro partiamo allora stiamo facendo 12345 il sesto giro quindi facciamo le solite 3 catenelle e rientriamo nello stesso punto facendo una maglia alta come vedi sotto abbiamo fatto nel giro che va verso destra partirai sempre con le 6 maglie alte ok quindi continua la partenza è sempre la stessa per i quattro giri che noi dobbiamo fare con i buchini verso destra quindi a questo punto io imito e quindi vado a fare le mie 6 maglie alte di partenza e difatti ti troverai ok ne abbiamo fatte in totale sono sei compreso le due d'inizio che fanno parte della metà angolo ti ritroverai a dover fare le due catenelle proprio sopra le ultime due maglie del giro precedente e poi continuerai continuerai a lavorare fino ad arrivare all'angolo opposto ecco e la fine due catenelle salti due e vai nell'angolo 1 e 2 2 catenelle rientra nell'angolo 1 e 2 e riparti esattamente come siamo partiti da questa parte cioè rifacendo il giro che hai fatto sotto quindi sono qui le sei maglie alte quindi 2 3 4 5 6 ne salti due e ne fai di nuovo sei partendo dalle due maglie alte nel nostro spazio quindi 2 4 6 2 catenelle e via dicendo quando arrivi alla fine di questo giro farai come abbiamo appena fatto qui quindi devi semplicemente copiare quello che appena abbiamo fatto finiamo tutto il giro andiamo ad unirlo finiamo il nostro sesto giro quindi ovviamente faremo le due catenelle come abbiamo fatto per finire il nostro lato no sempre le due catenelle in questo caso e andiamo nel nostro angolino a fare le ultime due maglie alte nel nostro angolo poi uniamo sempre nella terza catenella di inizio giro prendo il filo e chiudo tutti e tre le asoline e così abbiamo completato il nostro sesto giro 1 2 3 4 che vanno verso sinistra e i primi due che vanno verso destra dobbiamo fare altri due giri identici a questi allora adesso voglio fermarmi un attimo e farvi ragionare sul disegno sappiamo che sono dei blocchi da sei quindi sono sei maglie alte e sono divise da due catenelle perfetto è importantissimo come dicevo il segnapunto al termine dei quattro giri in una direzione o nell'altra proprio perché vi aiuta a capire dove siete ok perché poi da qui voi potete contare direttamente uno e due giri verso destra so che devo farne altri due quando ne ho fatti quattro nel quarto giro rimetto tolgo magari il segnapunto da questa parte lo metto nel quarto giro che ho fatto verso destra e così via quindi questo vi può aiutare poi un'altra cosa guardiamolo di qua che non c'è il marco punto quando andiamo verso sinistra la partenza si alterna in partenza scusate allora come vedi si parte con pieno vuoto e l'ultimo pieno quindi sarebbe vuoto pieno vuoto pieno si alterna in partenza ok nel giro invece che va verso quindi questo verso sinistra si alternano in partenza e sono identici se tu guardi alla fine del lato vedi qui si alternano e alla fine invece sono uguali viceversa quando andiamo verso destra partiremo sempre col pieno quindi le sei maglie alte pieno vuol dire le sei maglie alte vuoto le due catenelle partiremo sempre con il pieno e quando finiamo invece il lato si alterneranno quindi pieno vuoto pieno vuoto ok quindi è importantissimo ricordarsi questo è semplicissimo ok vai verso sinistra e hai vuoto pieno vuoto pieno vuoto pieno vai la partenza al contrario quando invece andrai verso destra saranno partenze piene e finirai con vuoto scusami pieno vuoto ok quindi ma più che la fine perché la fine viene ovviamente da sola e l'inizio che ti devi ricordare quindi ricordati verso sinistra vuoto pieno e vuoto pieno vuoto pieno verso destra tutti pieni tutti e quattro pieni tutti e quattro i giri pieni ok così almeno ti ho fatto capire anche questo concetto ti voglio far vedere perché ne sto iniziando un altro mi piace veramente tanto ne sto iniziando un altro vediamo se riesco a metterlo a favore ok bene ovviamente questa è la misura normale quello che abbiamo fatto insieme in questo questo qui invece è il campioncino ho già realizzato la maglia con lo stesso filato ma color perla ed è meraviglioso e questo qui invece è un altro con della misura reale come vedi allora ti mostro allora qui vado verso sinistra e qui vedi ovviamente il primo giro è vuoto pieno vuoto pieno 1 2 3 4 poi andiamo verso destra quindi abbiamo pieno 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 e pieno ok poi andiamo di nuovo verso sinistra quando dico destra e sinistra sono i buchini che si rivolgono o a sinistra o a destra inizio di nuovo a intervallare il vuoto con il pieno chissà se hai visto il vuoto con il pieno vado avanti in questo modo fino ad arrivare al mio alla mia lunghezza scalfo ok alla alla larghezza scalfo che io desidero cioè combinazione oggi mi sono ritrovata con un'amica che appunto diceva io ho la tua stessa taglia ma il mio scalfo ho fatto gli stessi punti che hai fatto tu ma il mio scalfo è molto è troppo ampio allora anche se hai la mia taglia puoi avere una corporatura diversa quindi la cosa migliore da fare e provarlo e vedere se ci sei arrivata o meno non per l'ampiezza del tuo busto ma solo per la larghezza l'altezza dello scalfo che tu desideri fare parti anche dal presupposto che come hai visto anche se hai uno scalfo ampio certo se a metà corpo è difficile stringerlo tutto però si riesce anche quello però se hai uno scalfo normale magari solo abbondante non è un problema perché ti mostrerò come stringere la manica una l'ho fatta con la manica simile palloncino e l'altra l'ho fatta con una manica che va a restringersi un po' quindi tu vai avanti finché riesci a ritrovarti con la misura del tuo scalfo ok io adesso provo questa e prova a vedere se sono arrivata alla mia misura e a quel punto se ci sono arrivata ritornerò in registrazione e ti faccio vedere e ovviamente tu continuerai no con i tuoi quattro giri a destra e quattro giri a sinistra quattro giri a destra con i fori quattro giri a sinistra fino a arrivare a questo punto e ti mostro come puoi unirlo senza fare il ponte sotto se hai se riesci che se quando provandolo vedi che il tuo torace il tuo seno è ben accogliente senza essere troppo aderente lo fermeremo senza fare un ponte altrimenti faremo un ponte in modo tale che anche per chi ha un seno abbondante può starci comoda dunque supponiamo che tu sia arrivata all'altezza scalfo aspetta che te lo metto ok all'altezza scalfo che desideri che va bene per te ok l'hai provato hai provato a chiudere sotto la tua ascella hai visto che sei comoda hai provato per quanto riguarda il tuo torace e ci stai dentro bene non è troppo stretto e quindi va bene così e ti mostro la prima alternativa quindi non facendo il ponte sotto l'ascella quindi se non ti occorre fare il ponte semplicemente fai come ti mostro qui col campioncino tira su le prime tre catenelle e come vedi sono partita nell'angolo a sinistra normalmente partiamo così e andiamo verso sinistra io parto in questo modo quindi tengo il lato precedente all'angolo in questo modo perché voglio chiuderlo così quindi ho fatto le tre catenelle filo sull'uncinetto vado dalla parte opposta quindi nell'angolo opposto entro e faccio una maglia alta ok in ogni caso come tu noterai avrai un minimo di spazio sotto l'ascella ma minimo è perché adesso sembra tanto ma quando gireremo chiuderemo il giro e ci blocchiamo qui è proprio un minimo adesso te lo mostro quindi nell'angolo facciamo solamente una maglia alta da questa parte e abbiamo appena fatto una maglia alta nell'angolo opposto vedi qui si forma il nostro scalfo ok entriamo e facciamo il giro che ci compete in questo caso sappiamo che dobbiamo fare il giro verso destra quindi sappiamo che il giro verso destra parte pieno e quindi vado a fare il mio lavoro normalmente ok ok e adesso vado fino all'angolo del mio lato che a questo punto sarà o la schiena o il davanti indifferente comunque del del mio lato e quando arriviamo alla fine del lato ok ce l'hai piegato così e alla fine ovviamente tu avrai la dimensione reale non questa mignone però quando arrivi alla fine del lato mi fai le due maglie alte poi chiudi il lato che segue e lo lavori sempre sul dritto quindi entri e mi fai le due maglie alte e prosegui con la lavorazione normalmente io sto andando ovviamente verso destra quindi io avrò 246 e poi chiudo ok finisco il mio giro e ti mostro sono arrivata alla fine del giro lavoro ancora le due maglie alte del mio quello che diventa il mio ex angolo poi attenzione qui abbiamo fatto le 3 catenelle iniziali ricordi vero quindi devo farne soltanto una maglia alta e poi vado a riprendere la terza catenella iniziale 123 quindi entro nella testa ok qui prendo il filo e lo porto all'interno ok come vedi recuperi un pochino di diciamo arrotondamento sotto l'ascella ma non tantissimo quindi se proprio tu sei giusta con il tuo torace fai così ok come tu noterai e l'avrai già notato allora innanzitutto il mio segnapunto mi va nella parte dove devo lavorare perché se no non serve nulla 1 2 3 4 1 2 3 quindi 1 2 3 4 nel quarto giro metto il mio segnapunto come vedi ho fatto 123 verso destra tu conto ovviamente e lavora in base a dove tu sei fuori a destra o fuori a sinistra tu continua a lavorare in base al tuo lavoro come tu noterai se stai facendo questo tipo di chiusura sotto l'ascella qui avrai sei qui avrai sei e io però qui non ho i due le due catenelle allora innanzitutto la prima cosa che faccio non voglio stare qui in centro e quindi mi sposto con delle maglie basse un po più avanti va bene anche qua ma facciamo un pochino più avanti ecco mi sposto un pochino più avanti in questo modo qui e poi riparto quindi per ora non sto a badare al fatto che mi mancano delle catenelle attenzione che ci siamo spostati quindi ovviamente tu non devi più contare i se le sei maglie alte che hai ma soltanto il devi guardare il lavoro che devi andare a fare io so che queste due le devo saltare quindi mi fermo con le due maglie alte salto le ultime due e vado a lavorare normalmente fino ad arrivare alla congiunzione dalla parte opposta ecco volevo mostrarti cosa succede nel mio caso che sto andando a destra ma il ragionamento è questo allora io sto arrivando vedi qui è il mio ex angolo qui abbiamo congiunto io qui ho fatto il blocco da sei quindi sono costretta a fare le due catenelle salto 1 e 2 vado in quella successiva che è già parte dell'altro lato e faccio la mia maglia alta e proseguo ok quindi la cosa importante non è tanto ecco per esempio guardami guardami qua ecco meno male sono felice che sia successo per esempio qui me ne vengono solamente quattro siamo nella parte sotto l'ascella non ha importanza non ha importanza io comunque seguo il mio schema saltando le due maglie e vado nel nello spazio successivo che cosa succederà quando io ritorno da questa parte che vedo che sono soltanto quattro e lavoro le quattro ok continua a tenere questa parte con quattro maglie alte non è un problema ecco anche qui ti dico non mi raccomando non fasciarti la testa proprio perché ci sta ci sta che sia così e non si nota neanche cioè proprio non lo noterai neanche e quindi sicuramente anche dall'altra parte avremo la stessa lo stesso problema ma anche fosse che hai anche dovesse essere che ti rimangono anziché sei maglie alte otto maglie alte per esempio cioè in più anziché in meno non ha importanza tu procedi tu sai che quando arriverai lì anziché averne sei ne avrai otto oppure anziché averne sei ne avrai quattro ok l'importante che tu non ti fermi non ti fermi perché non è un errore e quando si congiungono e possono succedere queste cose non voglio farvi fare calcoli strani per arrivare ad avere i gruppi da sei anche quando facciamo le unioni quindi io come l'ho fatto io lo mostro anche a voi senza troppi senza troppo fasciarsi la testa procedo fino ad arrivare dalla parte opposta e arrivo quello facciamo insieme l'ultima parte allora io procedo devo farne sei giusto 24 5 e 6 poi faccio le due catenelle salto 2 e vado quindi salto queste due e vado dalla parte opposta e ovviamente che cosa succederà che mi ritrovo anche da questa parte con quattro maglie alte difatti due più le due iniziali la prima che abbiamo è quella con le catenelle perché quella di partenza quindi entro prendo il filo e lo porto all'interno ed eccolo qua quindi da adesso in poi noi sappiamo che caruzzo vedete abbiamo fatto 1 2 3 4 giri faccio così perché abbiamo sempre detto verso sinistra di qua 1 2 3 4 giri verso sinistra 1 2 3 4 giri verso destra abbiamo fatto la chiusura senza ponte sotto bene cosa succede adesso che io devo andare avanti ovviamente fino ad arrivare alla lunghezza del corpo che mi occorre ok lo posso fare anche solo cortissimo lo posso tenere come canotta lo posso allungare fino a realizzare un bellissimo abitino ma volendo io posso anche allargarlo o stringerlo e ne parleremo anche con le maniche tu se vuoi allargarlo stringerlo guarda la parte delle maniche perché l'ho già registrata la parte delle maniche su quella già finita quindi c'è quella palloncino che va in un modo quella invece dove si restringe che va in un altro in un altro modo quindi se vuoi restringere se vuoi aumentare te lo mostro ora ma prima di mostrarti come aumentare io per esempio in questo punto devo cambiare l'andamento quindi devo andare non più verso destra ma verso sinistra metterò questo è il quarto giro verso destra il mio segnapunto che mi aiuti a ricordarmi che questo è l'ultimo giro verso destra io adesso devo andare verso sinistra quindi non più così ma devo far così quindi io so che queste due maglie andranno qui dovrò fare il mio spazio di due catenelle quindi che cosa faccio semplicemente qui non ho più una partenza con gli angoli e quindi ti devi regolare basandosi basandoti su un ragionamento semplicissimo cioè da che parte devo andare ok devo andare verso il buco deve andare verso sinistra quindi da questa parte e qui farò il mio buco vuol dire che questo buco sarà pieno quindi tiro su le mie tre catenelle iniziali parto sempre con tre catenelle iniziali e vado a lavorare 1 2 scusami 2 3 4 io qui ne ho quattro di conseguenza si sposteranno le quattro maglie alte per forza di cose e quindi due catenelle mi sposto verso sinistra e faccio il mio spazio ok e poi lavorerai in questo modo quindi ogni volta che ti devi spostare fermati e rifletti da che parte devi fare il buchino se verso sinistra andrai verso sinistra se verso destra andrai verso destra e questo è la storia dei nostri buchini a destra e a sinistra il nostro zig zag se io volessi aumentare come faccio per diminuire te lo mostro nel nella manica per aumentare io qui dovrei fare per esempio sei maglie alte no perché io so che sono solamente due parti hanno quattro maglie alte quindi posso per esempio va bene adesso stavo dicendo posso per esempio aumentare una maglia 2 maglie qui e 2 maglie dove ci sono le altre quattro così a largo ok però io te lo faccio vedere qui adesso questa è una cosa allora per esempio io ne ho tre nella quarta faccio la quarta e poi rientro nella quarta ne faccio un'altra che cosa succede che più le due anziché averne 6 quindi avrò 7 posso fare un allargamento totale posso allargare ogni sezione da 6 aumento una maglia ok quindi qui farò le due catenelle salto 2 vado nella terza e continua a lavorare posso aumentare per esempio in una sezione sì e nell'altra no qui per esempio ne faccio soltanto 6 divido con le due catenelle e poi quando vado nell'altra sezione o blocchi da 6 ne aumento una può essere all'inizio alla fine che normalmente quando vado verso sinistra aumento alla fine quindi qui saranno 5 più ovviamente quelle del del buchino o dello spazio li devi sempre fare quindi potrai a seconda di quanto lo vuoi allargare allargare in tutti i blocchi quindi anziché averne 6 ne avrai 7 dopo un paio di giri aumenti di nuovo dipende moltissimo da quanto tu devi allargare ok dipende solo da quanto devi allargare più devi allargare e ovviamente più devono essere ravvicinati gli aumenti quindi se devi allargare tanto io allargherei aumenterei ogni blocco anziché 6 diventano 7 poi il giro successivo anziché 7 diventano 8 cioè più ovviamente fai questi aumenti più la tua maglia si allargherà ok io penso di avervi spiegato tutto anche di questo come allargare stringere lo vedrai nella manica ma è la cosa opposta e come fare questo tipo di scalfo come riprendere poi le maniche il bordo e quant'altro lo vedi in seguito ho registrato tutto ora ti faccio vedere invece come fare il ponte sotto l'ascella se dobbiamo invece fare un ponte che collega la parte avanti con la parte dietro della nostra maglia allora dobbiamo fare in questo modo ho disfatto i giri ovviamente cercando di rispettare il disegno ok io qui sono lo collegherò così sposto ovviamente il mio marca punto so che devo fare uno due tre quattro quindi questo diventerà il mio terzo giro verso destra quindi tu fai la stessa cosa sia che vai verso destra che sinistra l'importante ecco seguire comunque sia il disegno mi sposto nella prima maglia alta dopo aver fatto vedi io sono proprio da dove partirei normalmente quindi devo spostarmi di una maglia quindi vado con una maglia bassissima sulla prima maglia alta che poi è quella che è composta dalle catenelle entro e faccio una maglia bassissima e poi faccio le mie 3 catenelle quindi praticamente la mia prima maglia alta se ti senti insicura metti in a questo punto proprio nella terza e asolina della delle catenelle nella terza metti il segna punto lavoro a questo punto normalmente cioè come sempre devo fare a seconda del disegno che devo seguire quindi ho sbagliato di nuovo l'uncinetto quindi due catenelle e noi proseguiamo proseguiamo la lavorazione a seconda del disegno che dobbiamo realizzare a destra o a sinistra e ci ritroviamo proprio alla fine di questo lato diciamo chiamiamolo avanti alla fine del lato avanti sono arrivata alla fine siamo partiti da qui quindi sulla prima maglia alta siamo arrivati alla fine del lato diciamo avanti sul fronte diciamo e lavoro anche le ultime due maglie alte del lato non nelle catenelle quindi vado su la penultima e sull'ultima ok quindi da questa parte sono partita come vedi con quattro maglie alte perché devo seguire il disegno non tanto le maglie quanto il disegno e ho finito con quattro maglie alte allora adesso io so sto supponendo e mi serve un centimetro ok so che voglio allargare voglio un ponte di diciamo due centimetri perché due centimetri da una parte quindi da una una parte sotto l'ascella e due centimetri dall'altra parte solo sotto l'ascella fa quattro centimetri di diametro in più nel diametro ok quindi a me bastano due centimetri e due centimetri corrisponde a quattro maglie come vedi quindi tu semplicemente prendi innanzitutto l'hai provato guarda quanti centimetri ti servono sotto l'ascella lo posizioni sulle tue maglie alte e vedi quanti centimetri quante maglie devi aggiungere io suppongo che debba aggiungere quattro maglie faccio finta che ho bisogno di due centimetri per parte quindi quattro maglie sotto l'ascella ok allora cosa faccio non lavoro più l'angolo ovviamente faccio quattro catenelle 1 2 3 e 4 a seconda dei calcoli che ho fatto e poi mettendo dritto in questo modo e tienilo in questo modo qui mi lavori salta il lo spazio di due catone catenelle dell'angolo vai direttamente nella prima maglia alta e lavora come se nulla fosse ovviamente rispetta il disegno che hai sotto salti 2 catenelle e nel mio caso è il lavoro così anche tutto il retro fino ad arrivare alle ultime due maglie alte del lato sono arrivata alla fine lato quindi qui abbiamo fatto il ponte ho lavorato tutto questo lato del mio retro chiamiamolo così tanto sono uguali e poi lavoro anche le ultime due maglie alte non guardo neanche il fatto del mio angolo io faccio la stessa cosa quindi 4 catenelle nel mio caso e poi unisco le 4 catenelle con la prima maglia che ho fatto la prima maglia alta che ho fatto che lo so che ho sostituito con le 3 catenelle quindi entro proprio dove ho messo il marca punto che la terza catenella vedi la terza catenella in alto 1 2 e 3 qui entro con una maglia bassissima e così io uno spazio di due centimetri sia da una parte che dall'altra non mi resta che continuare a lavorare partendo da dove sono controlla sempre che disegno devi fare se devi andare verso verso destra o verso sinistra nel mio caso devo fare il quarto giro con i buchini verso destra e quindi procedo in questo modo facendo le 3 catenelle io lavoro la mia maglia alta perché qui devo fermarmi in quanto qui devo rispettare i miei buchini il mio foro formato da due catenelle ok quindi io ho fatto solo due maglie alte da questa parte continuo con la mia lavorazione quindi continua anche tu con la tua e ci troviamo poi sul ponte allora sto arrivando vedi vicino al ponte quindi io so che devo a parte il fatto che sul ponte posso fare soltanto adesso vediamo vediamo 24 5 e 6 io quasi quasi faccio anche due catenelle salto 1 e 2 catenelle e vado nella terza e faccio una maglia alta nella quarta una maglia alta e poi salto qui nelle quattro maglie alte e me ne rimangono anche qui guardate anche qui me ne rimangono quattro benissimo quindi due catenelle no è ovvio che se ne avevo quattro sotto me ne rimangono quattro su però combinazione non è in matematico è perché io potevo avere più catenelle qui sotto l'ascella e quindi non funzionava in questo modo ok quindi cosa succede che continua a lavorare come come sappiamo continua a lavorare nello stesso modo io ripeto sto andando verso destra tu devi andare nella direzione in cui ti chiedi in cui hai il lavoro avviato quindi nel punto in cui ti sei fermata e ci troviamo nel ponte nel secondo ponte mi fa ridere dire ci troviamo sul ponte ok eccomi sto arrivandoci nel secondo ponte 2 4 5 e 6 2 catenelle io solo 4 catenelle quindi conto 1 e 2 nella terza vado a fare la maglia alta e poi procedo con la quarta una maglia alta e qui mi devo collegare con l'inizio 123 nella terza catenella entro prendo il filo e chiudo ok adesso è fatta e abbiamo così il nostro abbiamo allargato così il nostro busto ok facendo un ponte di solo quattro maglie in questo caso proprio sotto la nostra ascella non serve altro quindi praticamente adesso continuate a lavorare le maglie così come le trovate come le avete impostate io non so quanti quanti punti hai aggiunto sotto la tua ascella quindi potresti ritrovarti con quattro con sei maglie o provi probabilmente potresti anche trovarti con otto maglie non importa come ho già detto per quando vi ho mostrato lo scalfo chiuso non è un problema se hai delle maglie in più ok non è assolutamente un problema potresti avere anche dei blocchi con anziché sei con otto vi ho già spiegato come allargarlo ulteriormente aumentando le maglie quindi adesso andate avanti per la lunghezza che desiderate della vostra maglia questo è un campioncino soltanto quindi poi vi mostrerò come come fare il proseguo quindi le maniche le bordure e quant'altro sempre seguite passo passo seguiti passo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.